La stazione di Perca insegna il collegamento treno in pianti di risalita e vincente. Sempre più persone sono attente ad un turismo rispettoso dell'ambiente. A Bressanone, come è noto, si vuole realizzare un collegamento diretto con l'Aplose. La Giunta Provinciale, esaminando una serie di progetti, ha ribadito la volontà di abbinare la realizzazione della stazione a valle della Funivia con il risanamento della stazione ferroviaria. 35 i milioni di euro necessari, 18 o 22 dei quali solo per la Funivia. Noi abbiamo un programma che vorremmo dire che se uno vuole andare a sciare o anche d'estate a fare qualche camminata, allora dovremmo avere un collegamento diretto tra treno e impianti funiviari. Per questo motivo avremmo previsto sia a Bressanone come anche a San Candido come anche a Brunico questo collegamento diretto a Bressanone, vorremmo fare vicino alla stazione l'impianto a valle di questo nuovo impianto per l'Aplose e vorremmo dare un contributo da parte della provincia fino al 75%. Raccolta dei rifiuti. Sappiamo che la Tare, se nuova imposta introdotta a livello nazionale, viene calcolata esclusivamente sulle dimensioni delle varie abitazioni. L'esecutivo provinciale ha approvato un articolo ad hoc per prendere in considerazione anche l'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Lo Stato ha introdotto con decreto Monti una imposta per la raccolta e smaltimento di immondizie e come base prende la superficie di un appartamento. Noi diciamo, se proprio è necessario, anche noi adesso chiediamo già qualcosa, però non prendiamo come base la superficie di un appartamento, ma vorremmo dare un incentivo alle famiglie di dire se io riduco un po' la quantità, allora io prendo un premio, cioè pago di meno. Così io prendo come base la quantità dei rifiuti e non la superficie. E poi, secondo punto, anche noi vogliamo avere una raccolta differenziata tra la parte che è trasformabile in humus e l'altra parte che va a essere pruggiata all'ingegneritore di Bolzano. E così credo, diciamo, che noi vogliamo ridurre un po' la quantità e diciamo che con il nostro sistema vogliamo premiare coloro che seguono questi programmi. Perciò vorremmo inserire in una legge adesso un articolo che prevede che questa nostra direttiva, questo nostro invito potrebbe andare bene anche in futuro. Dopo l'addio di Manfred Schweikhoffler, il posto di direttore della Fondazione Teatro di Bolzano è attualmente vacante. Prima di bandire un concorso ad hoc, però, la giunta provinciale ha chiesto al Consiglio di amministrazione di preparare un piano di riorganizzazione eliminando i doppioni nei settori tecnici e amministrativi.